Continua il momento di crisi, possiamo definirlo così, del Benevento? Sì, un momento difficile, un momento dove le cose non stanno andando come andavano prima. Crisi, sì, chiamiamola crisi. Comunque sta solamente a noi. Dobbiamo rimanere liberi con la testa, sereni e fare quello che sappiamo fare, che sapevamo fare e che sappiamo fare tuttora. Quello che secondo me dobbiamo riuscire a fare, che ho appena detto, mantenere la testa libera e serena e sicuramente con questa serenità riusciremo a trovare la soluzione a quello che è questo momento. Io come dico sempre non è la difesa meno battuta, è la squadra meno battuta. Quindi come ci prendiamo in merito noi quando non lo subiamo, è anche merito degli attaccanti. Allo stesso modo quando segnano noi è merito anche della difesa. Quindi è tutto il sistema, è tutta la squadra che magari adesso sta un po' subendo. Sta subendo gol e sta subendo sotto altri punti di vista. Andiamo a Spezia dove ci giochiamo molto, dobbiamo giocare come se fosse una finale, ma queste sono frasi che diciamo da molte settimane a questa parte. Quindi dobbiamo giocarla come sappiamo, dando tutto. Un avversario, come hai detto tu, non sta attraversando anche loro un bel momento, quindi è un avversario agguerrito, pronto a farci la lotta e pronto a sputare sangue per raggiungere l'obiettivo della vittoria. Non abbiamo mai mollato, che se ne dicano, nonostante venga detto, però siamo sempre stati lì presenti e quindi sì, ci teniamo. È un obiettivo e noi ci crediamo fino in fondo.